In questo momento Alberto sta cercando un nuovo costume da orsacchiotto, mentre sua moglie guarda i gatti che giocano a ping pong e i ragazzi giocano con l'iPad a Zombie Munch 2. Si divertono tutti, ma Alberto e sua moglie sanno che la rete nasconde molte insidie, come virus che infettano computer e dispositivi o siti ingannevoli che raccogliendo i tuoi dati personali possono rubarti identità e denaro. La famiglia di Alberto non è preoccupata perché è protetta dal nuovo ed eccezionale Sitecom Cloud Security. Il Sitecom Cloud Security non è un antivirus di quelli che si installano sui computer, ma è integrato nei modem router Sitecom. Tutti i computer e i dispositivi in rete, dai notebook alle console di gioco, ai tablet come l'iPad, al Blu-ray, agli smartphone come l'iPhone, sono protetti dalla cybercriminalità. Usare Sitecom Cloud Security è veramente un gioco da ragazzi. Il router di Alberto è costantemente collegato a più server in rete, riconosce le minacce più recenti e protegge tutta la famiglia da eventuali insidie. Come una vera guardia del corpo, il modem router impedirà a chiunque e qualunque dispositivo in rete di accedere a siti e file nocivi. Alberto è al sicuro contro i siti di phishing che criptano i dati sensibili come le informazioni di accesso al banking online. Il servizio blocca su richiesta alle pubblicità fastidiose, i siti web o i file contenenti software nocivi che possono infettare tutti i dispositivi in rete. Ricordati che il Sitecom Cloud Security non protegge da virus provenienti ad esempio da chiavette USB e non sostituisce gli abituali software antivirus che si installano sui computer, ma è uno strumento di difesa di prima linea fondamentale contro le minacce della rete. Il Sitecom Cloud Security funziona con i modem router Sitecom aventi questo logo sulla confezione ed è gratuito per sei mesi. E non preoccuparti, il rinnovo non sarà automatico. Terminata la prova, decidi tu se estendere o meno l'abbonamento. Se sei anche tu preoccupato per la tua sicurezza online, attiva i Sitecom Cloud Security. Proteggi la tua famiglia da subito!